La Proloco di Lama e le sue contrade con la sua presidente Vittoria Orlando ha supportato in maniera energica davvero fattiva l'iniziativa organizzata da Rotaract per la pulizia, la bonifica di un'area insistente a Lama, sentiero via dei poeti e degli artisti, via Mughetto, cancello rosso cosiddetta, via Bougainville che è poi lo spartiacqua tra il sentiero dei poeti e degli artisti e Lama Sembon che va a finire Sembon andando a sinistra. Comunque per precisare qui alle nostre spalle abbiamo una favolosa macchia mediterranea ma questa mattina vi siete rimboccati le maniche nella opera di pulizia di bonifica. tante associazioni, tanti uomini e donne di buona volontà, tanti giovani e meno giovani, i meno giovani giovani nello spirito che hanno deciso di dimostrare che con il loro contributo minimo nel loro piccolo si può fare tanto per rendere l'ambiente in cui si vive degno di questo nome. Sì infatti quando si parla di ambiente non si deve parlare soltanto di macro opere ma nel nostro piccolo ognuno può dare il proprio contributo. Noi abbiamo aderito volentieri all'iniziativa del Rotaract così come aderiamo all'iniziativa di tutte le associazioni che periodicamente si dedicano alla pulizia di questa costa miracolosamente incontaminata forse perché non è di facile accesso. Un'abbaia incantevole, meravigliosa anche se a rischio di crollo ma sempre ad opera dell'uomo e nonostante ci sia stata una cementificazione selvaggia che possiamo vedere alle nostre spalle c'è tutta questa parte miracolosamente salva e quindi basta fare pochi passi dalla provinciale e ci si trova in una distesa di macchia mediterranea sospesi tra il verde di una varietà di piante che vanno dal Lentesco al Merto al Pino d'Aleppo. Piano piano diventa diversa a seconda della zona in cui si va. Mare e campagna è il caso di dire. Mare e verde diciamo in macchia mediterranea dove la natura ha ripreso i propri spazi. Bene o male questa parte del territorio è sorvegliata ma quello che vogliamo fare è diffondere appunto queste buone pratiche ed essere di esempio e anche di perno di una comunità che si riconosce e conosce perché se conosciamo il nostro territorio lo possiamo amare e rispettare. Grazie a tutti.